Ave Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video. Quest'oggi non siamo in Ucraina. Quest'oggi commentiamo un conflitto scoppiato ormai 200 anni fa. Siamo nella guerra della terza coalizione contro Napoleone, quindi terza coalizione antinapoleonica, e andremo un po' ad analizzare quello che è stato il movimento strategico della grande armata napoleonica in questa situazione. Movimento strategico che ha poi portato a una battaglia molto famosa che si chiama Battaglia di Austerlitz. Non andiamo ad analizzare però Austerlitz, che è un po' la conclusione tattica di una manovra studiata veramente a tavolino in maniera eccezionale da Napoleone, perché come dire, è una battaglia famosa che merita probabilmente un video a sé. Andiamo ad analizzare quello che è stato il prima. E dobbiamo partire da un punto ben preciso, Boulogne. Boulogne è questa città francese che sta veramente, sta sulla manica a poche decine di chilometri dall'Inghilterra. Qua l'armata delle coste dell'oceano, prima del 1805 si chiamava così, era addestrata da Napoleone, dai suoi uomini, dai suoi marescialli, per cercare di invadere la Gran Bretagna, le isole appunto britanniche. A un certo punto Napoleone dirotta i suoi intenti. Molto semplicemente si stava creando appunto questa terza coalizione, con i soldi in gran parte della corona inglese. E quindi ecco c'è questa coalizione, io vi ho, scusate la mappa un po' così, però come dire, volevo sottolinearvi le cose veramente più importanti. C'è l'impero austriaco in questa coalizione, c'è l'impero russo, c'è la Svezia e c'è anche il regno di Napoli. Quindi potenzialmente, questo ve lo dico io, quasi mezzo milione di soldati. Napoleone attraverso la sua intelligence, attraverso le sue spie in tutta Europa, viene a sapere che questa grande massa di soldati si sta mettendo in moto e sta per raggiungere i confini, il Reno in particolar modo. A Napoleone premeva veramente difendere il Reno, più che il settore italiano, Nord Italia, anche questo era un possibile fronte. Gli austriaci infatti si aspettavano un attacco qua nel Nord Italia, dove peraltro Napoleone era già arrivato diverse volte nel passato con grande successo, pensiamo a Marengo nel 1800 e ancora prima la campagna d'Italia. Tutte le varie vittorie, Lodi, Milano, Mantua e via dicendo. Quindi ecco, c'era questo timore da parte austriaca. Però Napoleone ha un'altra idea. Cosa vuole fare Napoleone? Napoleone parte da Boulogne con 180.000 uomini più o meno divisi in sette corpi d'armata, parte da Boulogne e arriva sul Reno. Qua vi ho evidenziato diciamo le città principali sul Reno, sul fiume Reno, da cui poi partiranno questi sette corpi d'armata. Nel frattempo però Napoleone cerca con la diplomazia, con i movimenti dei suoi, di ingannare i suoi nemici. Cerca di ingannare gli austriaci e ci riesce. Non solo con la diplomazia, appunto manda diplomatici a far capire che lui non vuole la guerra continentale, vuole la pace, tra l'altro fa un accordo con la Prussia, che adesso non ho creato sulla map, però sta là. E poi cosa fa? Fa anche, manda Murat, un suo generale, a muoversi in questa sezione, qua come potete vedere a Fraudinstadt, in questa zona qua. E quindi gli austriaci, qua c'è un esercito più o meno sui 60.000 uomini del generale Mack, pensano che ci sia una forza francese, non capiscono di che entità Napoleone fa credere di avere 20-30.000 uomini sul Reno, sul confine Renano, per appunto andare a coprire un confine che secondo molti era sguarnito. In realtà Napoleone dice al suo ministro degli esteri, Talleyrand, che vorrà entrare in Germania in un mese, lui è partito da Boulogne a fine agosto, intende fine settembre più o meno, con 200.000 uomini. Quindi c'è questa intenzione, c'è una commistione di azioni da parte di Napoleone, c'è uno studio del campo, manda diverse volte dei suoi uomini generali a studiare il campo qua, nella bassa Germania, crea confusione attraverso la diplomazia, quindi ci sono diverse armi e poi ovviamente ci sono i suoi soldati. E qua andiamo a sottolineare la parte topica della maniere napoleonica, il fiore all'occhiello della manovra del 1805. Questa manovra probabilmente è la manovra che a livello strategico più è riuscita a Napoleone, perché io premo, sono pesante su questo aspetto, chi fa analisi militari non può non conoscere queste cose, cioè è proprio un qualcosa di obbligatorio. Fino a quel momento, negli ultimi secoli, pensate a Federico II di Prussia, di solito gli eserciti si incontravano dritto per dritto, ok? Federico II era un genio tattico, però lui prendeva il suo esercito, si dirigeva appunto frontalmente, poi ovviamente a livello tattico c'erano manovre e via dicendo, però a livello strategico non c'era tanto studio, si occupava qualche cittadina, linee e pressi e via dicendo. Napoleone non fa questa cosa, Napoleone evita il nemico inizialmente, perché arriva sul fiume Reno e poi si muove in una manovra, come potete vedere l'esercito austriaco è qua, a Ulma, ok? Ulm, l'esercito francese, i cento e passa mila uomini francesi, si muovono qua e arrivano. In queste località io ne ho elencate alcune, ne ho sottolineate alcune, Neuburg, Donauert e via dicendo, e poi arrivano qua, ok? Siamo a est di Ulma e chiudono la strada, chiudono l'accesso per una possibile ritirata di Mac. Mac quando capisce cosa è successo è troppo tardi, perché ha più di centomila uomini dietro alle spalle. Ci sono dei tentativi di, da parte austriaca, di uscire dall'accerchiamento, però di fatto Napoleone ha vinto ancora prima di combattere, ci sono degli scontri, i francesi perderanno circa 6.000 uomini, però gli austriaci ne perdono dieci volte tanti, poi prigionieri, tantissimi prigionieri, lo stesso generale Mac viene catturato da Napoleone e poi verrà rilasciato, però in questo caso c'è questa la dimostrazione come si può vincere, approccio indiretto, famoso approccio indiretto, come si può vincere non con le armi da fuoco ma con le gambe e infatti questo sarà un concetto ripetuto anche dagli stessi soldati di Napoleone. C'è una marcia giornaliera addirittura di 35-40 chilometri dei suoi soldati, dei soldati della grande armata, notate ripeto lo spostamento, Mac non si accorge di niente, Mac si accorge qualcosa che qualcosa sta succedendo quando ormai è troppo tardi, quando ormai gli uomini di Napoleone sono sul Danubio, ovviamente questo è il film di Danubio, non ve l'ho detto, però questo è il film di Danubio, Napoleone lo attraversa molto più lontano rispetto a Ulma, cioè non va a sbattere a Ulma, altrimenti avremmo avuto tutt'altro epilogo. In un solo colpo, in sei settimane di guerra, Napoleone ha preso l'iniziativa strategica, ha battuto uno degli eserciti principali della terza coalizione e mette in fuga l'esercito russo di Kutuzov, che qua non vi ho sottolineato ma stava più o meno qua ai confini tra la Baviera e l'impero austriaco, che stava correndo in aiuto degli austriaci, perché l'obiettivo della grande coalizione, della terza coalizione, era quello di riunire gli eserciti, in un solo, in una sola grande forza d'invasione, e invadere la Francia. Napoleone cosa fa? Li prende in contropiede, prendo io l'iniziativa, vi attacco io per primi, e infatti questo ha pagato. Lo spirito offensivo, lo spirito battagliero di Napoleone paga, perché poi ci sarà il proseguo della campagna, Napoleone continuerà, poi anche lui avrà un bisogno assoluto di una vittoria decisiva, che poi avverrà ad Austerlitz. Battaglia famosissima, perla napoleonica, e via dicendo. Però, come dire, la campagna Napoleone la vince, fa più di metà dell'opera secondo me, a Ulma, ancora prima da Boulogne. Ovviamente Napoleone ha già tutto in mente, c'è un famoso dettato a Derou, se non erro commissario della guerra, francese. Altra cosa importantissima. Il piano strategico, qua siamo a un livello strategico, ragazzi, non siamo a un livello tattico, siamo a un livello quindi di un certo livello, scusate il gioco di parole. Napoleone cosa fa? All'inizio, ad agosto del 1805, da quello che si capisce, voleva fare una manovra molto più, come dire, ambiziosa. A un certo punto però, siccome sa che gli austrecci si sono già mossi, hanno già invaso la Baviera, che era un alleato della Francia, questo territorio qua più o meno, cambia i suoi piani. E questo è un altro punto topico della manier napoleonica. Cambiare in corso d'opera. Se cambia la situazione iniziale, si cambia anche il piano. Non si sta assolutamente fissi. E infatti Mac paga la sua mancanza di flessibilità. I russi pagheranno la mancanza di flessibilità da Austerlitz, a livello tattico. A livello strategico, Mac purtroppo è il malcapitato, non è lui, è un sistema, un sistema militare, un sistema strategico che ormai è superato, è il sistema del settecentesco di fare la guerra. Napoleone porta un qualcosa di nuovo, che non è nuovissimo, attenzione, perché nell'antichità c'era chi già lo faceva, questo tipo di approccio indiretto. Pensate a Cesare, pensate ad Annibale. Annibale a Canne fa una cosa simile. Annibale non va contro l'esercito, direttamente contro i Romani, cerca di attirarli dove vuole lui, in una battaglia decisiva. E qui capite anche un'altra cosa, perché io picchio molto sul fatto di studiare i generali, i grandi classici, e via dicendo, perché Napoleone lo ha fatto e infatti poi ha pagato. Approccio indiretto. Quindi ecco, questo era quanto. Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, però come dire, volevo parlarvi con la mia passione, con le mie conoscenze, senza stare troppo lì a soffermarmi sulle sottigliezze. Spero vi sia piaciuto il video, vorrei proporvene degli altri, come vedete sono riuscito anche a fare una mappa discreta. Per oggi è tutto, ci vediamo ad un prossimo video.